In questo ultimo capitolo sull'origine dei diaspori parleremo di un gruppo di diaspori un po' strano, i diaspori agate. E' un gruppo di confine fra i diaspori e le agate ed è la transizione fra due mondi con una chimica e una genesi transizionale fra i due gruppi. Siamo nel gruppo di diaspori chimici, cioè quelli che si formano per precipitazione diretta da soluzioni, quindi secondo la classificazione che abbiamo usato fino ad adesso non sono trasformazioni di materiali preesistenti come i diaspori oceanici che si formano per trasformazione di opale, i diaspori vulcanici che si formano per trasformazione di vetri vulcanici o i diaspori su fossili che si formano sostituendo materiali organici come ossa o legno. Quindi siamo nel gruppo della precipitazione diretta. Gli diaspori chimici. Abbiamo visto che i diaspori chimici hanno una struttura di base che è la laminazione, per cui abbiamo definito un gruppo di diaspori che abbiamo chiamato laminati, e un paio di strutture dovute a fenomeni secondari che producono i diaspori urbati e i diaspori brecciati. Abbiamo visto nel gruppo dei diaspori brecciati che c'è una transizione dalla formazione, dalla genesi di diasporo alla precipitazione di calcidonio negli interstizi fra le brecce, fra i clasti delle brecce. Quindi siamo già in una chimica di transizione nei diaspori agate. Entriamo nettamente in questo gruppo, però sia il diasporo che l'agate si formano nello stesso momento, mentre nei diaspori brecciati, come abbiamo visto, nella maggior parte dei casi c'è un cambio nella geochimica delle soluzioni, per cui non sappiamo bene quanto è passato fra la formazione del diasporo e la formazione del calcidonio, quindi possono essere, anzi in genere sono, due eventi totalmente diversi, mentre nei diaspori agate abbiamo la concomitanza dei due fenomeni. Il termine diasporo agate è usato in maniera molto generica, dagli addetti ai lavori, dai lapidari, da chi tratta da grezzi, e si possono chiamare diaspori agate, basicamente tutti quei materiali che sono bicomponenti, in cui c'è una porzione chiaramente di diasporo e una porzione chiaramente di calcidonio, e in secondo i casi merita più il termine di diasporo, come questo cobra jasper, o di agata, come questo volcano agate, senza nessuna logica di base. Quindi adesso entriamo nel merito di un significato genetico per questo nome, e cercheremo di usarlo in maniera corretta solo per quei diaspori che hanno formato diasporo e agata in concomitanza, anche se l'uso generico del termine diasporo agata per qualunque materiale di dubbia origine, mi sembra assolutamente corretto. Ecco, quindi abbiamo visto nel capitolo precedente che la genesi di un diasporo brecciato, che è un tipo di diasporo agata, può essere il risultato di la dissoluzione del diasporo e la precipitazione di calcidonio negli interstizi. Quindi abbiamo visto che si tratta di un processo fisico e non chimico, cioè chimico e non fisico. Scusate. Cioè, il diasporo, abbiamo notato che è una roccia molto consistente, molto tenace, molto difficile da frantumare, sbriciolare in frammenti così piccoli come in questi casi, e quindi siamo andati a ricercare un fenomeno più complesso, dove è di base la chimica, diciamo che è fondamentale la chimica, ed è attribuibile, è basicamente, alla reazione alcalisilice che discioglie il diasporo in un contesto geochimico in cui non è più stabile il diasporo, ma è stabile il calcidonio. Quindi, nel momento che il diasporo è disciolto, riprecipita il calcidonio. Abbiamo detto che è un processo chimico e non fisico. Anche i diaspori agate, vengono spesso chiamate alcune agate che hanno dei muschi molto fitti. I muschi, come sappiamo, sono una caratteristica di filamenti sospesi nel calcidonio, quindi le agate muschiate sono, chiaramente, delle agate con delle inclusioni, e quando queste inclusioni sono molto fitte, molto abbondanti, il materiale può essere, in qualche maniera, definito come un diasporo. Alcuni campioni sappiamo, come per esempio questo, delle bacon neel, sappiamo che provengono da giacimenti che danno agate e agate bandate, per cui si tratta di un nodulo con una concentrazione anomala di muschi. e in altri casi l'interpretazione è più complessa, bisogna avere informazioni corrette sul giacimento. Abbiamo visto anche che da questi due campioni ci siamo resi conto che esiste un end member, una situazione al limite, nella precipitazione del diasporo, per cui questo diasporo, oltre a depositare lamine sul fondo della cavità, comincia in qualche maniera ad appiccicarsi sulle pareti anche della cavità e a sgocciolare formando starattiti. Questo fenomeno mi avvicina, questo gruppo di diaspori, mi avvicina ai noduli di calcidonio, al riempimento di cavità da calcidonio, perché sappiamo che il calcidonio si appiccica in qualche maniera alle pareti della cavità, infatti le agate sono bandate in maniera concentrica. Quindi questo fenomeno di appiccicare un materiale sulle pareti e farlo sgocciolare è più tipico del calcidonio che del diasporo. Inoltre abbiamo visto che il componente di questi stalattiti in certi casi ha aspetto chiaramente di diasporo, ma per esempio in questo campione ha un aspetto più muschioso, quindi in determinate circostanze il diasporo e il muschio assomigliano molto e possono essere confusi. Ecco, allora, una situazione possibile è quella in cui le condizioni chimiche possono cambiare. Abbiamo visto che possono cambiare nella genesi dei diaspori brecciati, però possiamo avere, per esempio, in questo caso abbiamo una vena riempita da un'agata, si vedono qui delle plume, che poi è passato a diasporo, il riempimento laminare di diasporo. Anche in questo materiale, sempre in vena, abbiamo del plume, quindi del calcidonio, sulle pareti della vena e poi all'interno della vena si è deposto del diasporo orizzontale. I due fenomeni, anche se si trovano nello stesso campione, possono essere avvenuti a distanza di molto tempo. Può avvenire anche il contrario, dei noduli che hanno precipitato diasporo nella parte basata del nodulo, poi nella parte superiore, che è rimasta vuota, possono cristallizzare calcidonio e quarzo, come è il caso di questo blumante o di questo altro nodulo in un'altra località in cui c'è diasporo sul fondo e una bella agata con i muschi alla base nella parte superiore. Questo mi indica condizioni chimiche cambiate, però anche qui non sappiamo quanto tempo è trascorso fra la formazione delle plume o del diasporo e il successivo diasporo o agata. Ecco, con il suo campione invece entriamo nettamente nel gruppo di diaspori agati, nel senso genetico del termine. Questo campione proviene da un deposito di agate, vediamo che è un'agata, un calcidonio, con delle stalattiti dell'aspetto muschioso, però sul fondo si depone un diasporo. Questo diasporo ha il colore delle stalattiti, per cui chiaramente è lo sgocciolamento di queste stalattiti che mi provoca questo diasporo. E se osserviamo in dettaglio, abbiamo un passaggio graduale fra questo diasporo compatto, giallo, dai toni gialli verdini, una zona di muschi che ha le stesse caratteristiche delle stalattiti, cioè è un diasporo con una certa porosità riempita da calcidonio, quindi assomiglia a quei diasporo brecciati alterati, che è un termine di transizione, poi vediamo il passaggio a calcidonio puro. Quindi, nello stesso campione abbiamo un passaggio graduale da diasporo a muschio a calcidonio. Per conservarsi queste stalattiti così delicate, l'ambiente deve essere rimasto umido tutto il tempo. Non possiamo sicuramente ipotizzare dei fenomeni di dissecamento come succede nei diaspori perché in quel caso chiaramente il dissecarsi di queste stalattiti avrebbe portato alla fermentazione e allo sbriciolamento di queste delicate strutture e sicuramente sul fondo avremmo delle tracce di questo dissecamento. Quindi, il passaggio da diasporo a calcidonio in questo campione è stato graduale. Quindi, questo è geneticamente un diasporo agata, cioè un nodulo in cui senza soluzione di continuità abbiamo avuto un cambio di geochimica, un cambio di condizioni di pH per cui sono cristallizzati nello stesso nodulo i due componenti. Ecco, mentre quello di prima era un campione del Nord Africa e del Marocco nel giacimento di Kerrushin questo è un campione dell'Arizona e vediamo che è assolutamente molto simile cioè un diasporo rosso alla base delle stalattiti chiaramente rosse chiaramente di diasporo con un aspetto un po' più muschiato e poi c'è del calcidonio il nodulo non è stato completamente riempito da calcidonio però questo non toglie che il passaggio è stato graduale ed è stato senza essiccamenti. Se osserviamo altri campioni dello stesso deposito che è un deposito che ha una costanza di caratteristiche di questo tipo vediamo che c'è sempre un più o meno abbondante deposito di diaspora alla base e sempre stalattiti al tetto questi diaspori possono in alcuni casi quando lo spessore del diaspora è piuttosto spesso formare delle strutture finemente orbicolari che ricordo in qualche maniera quella dei diaspori orbicolari la genesi non ha niente che a vedere perché abbiamo visto che i diaspori orbicolari sono la devetrificazione dei vetri vulcanici in questo caso non c'è vetro siamo in una cavità che inizialmente è vuota però c'è qualche struttura qualche fenomeno che mi provoca questa cristallizzazione orbicolare del diaspora ecco questo è un altro campione sempre del deposito di Brenda e ha questi depositi chiaramente orbicolari considerando che il calcedonio dà con frequenza strutture orbicolari questa struttura in qualche maniera può ricordare quello che succede nel calcedonio che però cominceremo a vederlo nel prossimo capitolo ecco da un'altra località abbiamo un'agata simile con questi diaspori finemente orbicolari e chiaramente riempimento di una cavità e ci sono attraversati questi materiali da queste linee che sono delle strane fratture questo queste linee di fratture associate ai diaspori orbicolari le abbiamo trovate anche in questa agata raster tail del Messico un'agata che apparentemente sembra un'agata muschiata fittamente muschiata che però ha anche questa queste caratteristiche un po' bivalenti fra il calcedonio e il diasporo un altro deposito di agate di diaspori agate del deposito del Caddy Mountain nel sud di California ci sono dei grossi spessori di diasporo alla base e le stalattite nella parte superiore anche qui abbiamo un altro campione dello stesso deposito i diaspori si trovano in una porzione più alta mentre nella parte inferiore di questo di questo campione abbiamo una sequenza di un materiale che dà l'aspetto muschioso con molto calcedonio inframmezzato e quindi anche qui abbiamo una specie di diaspori muschiosi e di diaspori più compatti in sequenza questo è una vena nel deposito laguna del Messico che venne chiamata agata inferno è un'agata appunto in vene non in noduli come frequente per le agate laguna molto colorata però è caratterizzata da avere una base dall'aspetto muschioso anche se molto colorato dai colori gialli e rossi e delle stratizze dei stessi colori che sgocciano dal soffitto questo materiale ecco e questo campione i muschi sono ancora più fitti si possono vedere sui fianchi della vena dei fenomeni di scivolamento vediamo qui un piccolo slump dove questi muschi molto compatti sono arricciati sempre dei muschi filamentosi scendono dal soffitto in questi campioni non sono ben definiti come stelattite ma comunque danno chiaramente l'idea di cascare dal soffitto e adagarsi sul fondo e in certe bande hanno aspetto più di esprigno mentre in realtà nella maggior parte del deposito hanno aspetto più muschioso ebbene quindi abbiamo visto che c'è un gruppo di diaspori in realtà solo alcuni campioni che ci hanno dato l'informazione che esiste nella deposizione di un diasporo chimico un momento in cui la chimica della soluzione cambia e il diasporo comincia a restare appiccicato al tetto della cavità per cui può produrre delle stalattite nelle agate sappiamo che il processo è più concentrico cioè c'è chiaramente un appiccicamento del calcedonio contro le pareti e per gravità sgocciolano questi muschi che si depongono sul fondo delle cavità quindi il diasporo agata è un prodotto intermedio in cui le condizioni stanno cambiando e cambiano mentre il nodulo è ancora attivo cioè non ha trovato un diasporo solido e mentre si sta formando si forma nella parte inferiore del diasporo e poi comincia un'agata vero e proprio quindi è chiaramente un campione di transizione fra questi due fenomeni le differenze sono che il diasporo che compone il diasporo agata ha un aspetto più muschioso rispetto ai diaspori chimici che hanno l'aspetto porcelanaceo cioè questi hanno una microporesità riempita da calcedonia inoltre vediamo che drappeggiano la base mentre i diaspori propri diciamo sono più fluidi e danno delle lamine piatte orizzontali in cui solo le prime lamine tendono a drappeggiare ma rapidamente la laminazione diventa più parallelo orizzontale mentre in questo caso abbiamo che il drappeggiamento è costante e quindi significa che la fluidità di questi diaspori era poca e non c'era molto movimento sul fondo per poterlo far diventare orizzontale quindi siamo in un ambiente un belino più viscoso questi tre campioni che sembrano così diversi in realtà sono sotto quasi tutti i punti di vista la stessa cosa l'unica differenza è il pH la composizione è sempre la stessa stiamo parlando di silice micocristallina sia che sia sotto forma di diasporo sia che sia sotto forma di calci d'onimo la composizione sappiamo che non cambia bene abbiamo visto quindi che c'è una condizione chimica in cui all'interno di un nodulo un materiale dall'aspetto muschioso precipita sul fondo si compatta e diventa un materiale dall'aspetto più di aspriglio ecco allo stesso modo cioè al contrario abbiamo visto che nella formazione dei diaspori brecciati un diasporo inizialmente dall'aspetto di aspriglio un chiaro di aspro per alterazione per infiltrazione di calcedonio dovuto allo scioglimento dovuto alla reazione della calicilice questo calcedonio comincia a permeare all'interno del diasporo e forma un materiale dall'aspetto muschioso quindi questo significa che da un punto di vista strutturale e chimico il muschio e il diasporo sono due materiali molto vicini anche se muschio è un termine che noi usiamo in maniera generica per definire una struttura filamentosa di inclusione nel calcedonio in realtà vediamo che ai limiti del suo campo di stabilità il muschio è qualcosa di molto vicino al diasporo ecco c'è un vasto gruppo di materiali dall'aspetto ambiguo per cui si usa il termine diasporo agata in realtà questo è per la maggior parte dei casi ma la miglior maniera di definirli perché è molto difficile capire se un materiale come questo sia un diasporo che è diventato brecciato e in cui l'alterazione del diasporo è molto spinta oppure un'agata muschiata con una concentrazione altissima di muschi che ha depositato in maniera più o meno complessa questi muschi sul fondo di una cavità quindi vi faccio vedere alcuni campioni di diaspori agate in cui la definizione la genesi è abbastanza difficile bisogna fare degli studi più approfonditi sul deposito e capire esattamente in che condizioni ci troviamo e tra l'altro in molti di questi casi la formazione di diaspori agate sono fenomeni locali all'interno del fenomeno quindi è possibile che mentre questo nodulo dà chiaramente dei diaspori stratificati magari nello stesso deposito a pochi metri si formavano delle agate bandate normali o dei diaspori non conosco tutti questi depositi però è possibile che non sia un deposito con caratteristiche omogenee questo è ancora l'agata raster tail che è un'agata molto bella però abbastanza difficile da interpretare qui ancora un campione vediamo dei muschi dei filamenti però molte strutture che hanno l'aspetto di asprigno e certi campioni sono totalmente opachi che hanno clasti tipo breccia sparsi ecco questo è un altro materiale che verrebbe definito muschiato in realtà i muschi hanno delle forme che ricordano anche come disposizione dei clasti ricordano quello dei diaspori brecciati ecco un altro materiale dall'aspetto di esprigno con molto calcidonio con molte strutture da fratturazione chissà di fronte a cosa ci troviamo anche in questo caso vediamo dei festoni dall'aspetto di asprigno delle forme allungate poter essere un diasporo brecciato un diasporo alterato in qualche maniera qui vediamo che c'è chiaramente un fenomeno gravitativo però nella parte bassa siamo di fronte a un materiale che è più vicino al diasporo che alla cata muschiata ecco quindi per entrare nel mondo delle agate muschiate dobbiamo trovarci di fronte a un deposito che anche se dà dei materiali dall'aspetto colorato rosso e omogeneo però ha una struttura filamentosa ben coerente ecco il Mauri Mountain per esempio o sempre il deposito di Cadim Mountain danno dei materiali con filamenti coerenti con una cristallizzazione all'interno di un calcidonio come vedremo che le agate muschiate si formano appunto per filamenti quindi qui entriamo chiaramente nel gruppo delle agate però in tutti i casi dove questi muschi hanno una consistenza più spessa e una forma che potrebbe ricordare quella che abbiamo visto nei diasporo brecciati la sua interpretazione direi che è da attribuire a questo gruppo di transizione quindi questo qui già non è un diasporo agata anche se ha un aspetto un po' così che può risultare dubbio però da un punto di vista genetico qui siamo chiaramente nel campo delle agate muschiate grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti